Il caro tassi rimette in discussione i progetti delle famiglie che vogliono acquistare una casa e quanto emerge da una ricerca della FAB, la Federazione Autonoma a Bancari Italiani, sull'aumento dei tassi di interesse e l'impatto sui mutui. La fiammata del costo del denaro portato al 4,5% dalla BCE ha fatto triplicare i tassi delle banche sui mutui erogati alle famiglie. A fine dicembre 2023 gli interessi medi applicati ai prestiti immobiliari erano arrivati al 4,4%, il triplo rispetto all'1,45% di gennaio 2022. Nel corso del 2023, osserva la Federazione, sono arrivati importanti aumenti, 3,6% a gennaio, 4,02% a marzo, con il picco a novembre al 4,61%. Il rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea ha bloccato il settore immobiliare. Nel corso del 2023, le spese per i mutui sono calate di 2 miliardi e 300 milioni. I dati degli ultimi 12 mesi dimostrano che il delicato equilibrio tra i tassi di interesse e l'inflazione ha messo a dura prova la capacità di indebitamento delle famiglie. È passata dal 51 al 41%, la quota di persone che chiede un prestito per comprare una casa. Secondo la Fabi, è fondamentale che la BCE abbassi i tassi. Non bisogna scoraggiarsi. Le banche offrono molte soluzioni per dare comunque la possibilità di chiedere un mutuo per la casa confrontando le offerte tra una banca e l'altra.